Si terranno il 16 e 17 dicembre i mercatini di Natale di Domodossola. Per il secondo anno, dopo l'interazione del 2020 e l'organizzazione diretta da parte del Comune, l'evento sarà gestito dalla Proloco, così come ufficializza una delibera dell'amministrazione. I mercatini saranno concomitanti con il mercato del sabato e con il mercato straordinario di Natale, ma la concomitanza dei due mercati nel centro cittadino è già stata sperimentata Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.